Babà sai, babà l'ho sempre definito il poeta della romanicità e il poeta della notte, della droga del sesso e di Roma la vita al massimo non è una vita piena di belle donne, macchine veloci, tanti vizi a gioco però insomma c'è tanta sofferenza che tante persone magari non si ricordano manco in tenera età giusto per dirne qualcuna ecco, mi chiamate il califo per qualcuno per qualcun altro e il poeta maledetto alcuni dei concetti che ho sempre detto, il giovane lo si è sempre, se lo si vuole insomma però sono fino alla fine, penso che alla fine bisogna sentirsi giovani dentro, questo è il segreto dell'esiste di lunga vita le scopo dell'incontro con la donna appunto è soddisfatta la donna, io l'ho conosciuto 5.000, forse più di 5.000 è uno dei miei segreti, vive chi vive, non chi c'è, la filosofia di vita nel senso che non è che chi c'è vive, vive soltanto chi ha deciso di vivere al massimo, cosa scelte ho, quando è botto in immediato ma non sono mai caduto e se la vita mi offro il conto lo rispondo già pagato, è diventata la metafora di vita nel senso che poi le botte non ce l'ho dato, non mi sono sempre rialzato e quindi penso che per qualcuno ha richiuso pure la genialità del personaggio poco comune ecco, tante donne possono stancare, troppe dico io no perché il tetaco è sempre allenato, quindi sai, è la saggezza del donnaiole e confessare alla donna di essersi masturbati pensandola, penso che uno dei più bei compilamenti che esistono, insomma, vedi, si tratta di essere l'ultimo romantico, la romana è dura, è dura, si la tira senza motivo, si atteggia, si sa perché, ti chiede la macchina che c'ha, che non c'hai, non l'ho mai capito, dico la verità e andavo a letto sempre 5 minuti prima degli altri, per poter, per avere 5 minuti di più, per raccontare la vita, per qualcuno ti chiedono, i notti bravi, per sesso, la droga, per l'alba, ma c'hanno tante emozioni che voi non vi immaginate manco, emozioni mie che nessuno mi può togliere, quello che ho vissuto e vi posso raccontare, vi ho sempre raccontato, spero che ci avete capito qualcosa, perché vi ripeto, quello che ho vissuto io, per l'intensità che ci ho vissuto e come ho vissuta, non me la potete manco immaginare, ecco.